Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmi che sono qui a portarvi il secondo episodio del squad 2015-2016 di FIFA 16. Vi porto oggi l'Inter che è stata una delle squadre più richieste, poi ovviamente successivamente vi porterò il Milan, la Juve, la Roma e tutte le altre squadre che mi avete chiesto. Chiedetemi anche squadre estere perché secondo me può essere anche divertente parlare delle squadre magari di Premier League o di Bundesliga o di Liga, ma anche le più comuni come, che ne so, Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester, tutte quelle che volete. Basta che me lo scrivete nei commenti, sono contento che lo scorso episodio, quello sul Napoli, abbia ricevuto tanti commenti con consigli eccetera eccetera. Quindi oggi appunto, come avete notato, vi porto l'Inter con questo modulo 4-3-3. In realtà potrebbe l'Inter giocare con questo modulo oppure con un 4-3-1-2, dipende poi dagli effettivi giocatori che avrà alla fine del mercato Roberto Mancini, per costruire la squadra. Comunque io ho ipotizzato questo 4-3-3 con due possibili acquisti del fine mercato. Quindi partiamo subito dal portiere, come al solito ovviamente Andanovic, che non ho voluto upgradeare né downgradeare, ha fatto un'ottima stagione per quanto riguarda i rigori parati, ha fatto tanti salvataggi, ha salvato diversi punti all'Inter, ha comunque fatto anche diverse stronzate Andanovic durante l'anno, quindi penso che comunque questa carta sia abbastanza giusta. Poi non so, fatemi sapere voi se siete o non siete d'accordo con le varie statistiche dei giocatori e anche ovviamente scrivetemi il perché. Comunque questa penso sia una discreta carta di Andanovic. Poi andiamo con la difesa, Montoya che praticamente non cambia, anzi gli ho aumentato qualche statistica, perché comunque giocando poco l'anno scorso con il Barcellona ha comunque collezionato se non sbaglio tre assist o qualcosa del genere e quindi ci potrebbe stare anche un aumento in passaggio, comunque un po' nel resto delle statistiche. Poi abbiamo Miranda, anche lui viene da un'ottima stagione con l'Atletico Madrid e appunto anche a lui non gli ho aumentato né diminuito, penso statistica, adesso non ricordo precisamente forse qualche downgrade, glielo ho dato in qualche statistica, ma non mi ricordo purtroppo perché non ho le due carte a confronto. Comunque è un ottimo acquisto per l'Inter e potrebbe fare molto bene. In coppia con Murillo che ho voluto upgradare di uno e renderla una carta oro non rara, per me sarebbe meglio una carta argento o rara, sarebbe molto più affascinante come carta e avrebbe sicuramente delle ottime statistiche. Qui Murillo da 75 non so quanto potrebbe essere affascinante come carta, però è comunque un buon acquisto per l'Inter, ha disputato buone gare nella Coppa America quindi io penso che si possa meritare almeno un 75 di overall. L'anno scorso giocava nel Granada che era una squadra che subiva tantissimi gol e quindi vabbè è un po' difficile comunque mettere le statistiche a Murillo. Poi completiamo la difesa con Criscito che avevo già trattato in un potential transfer, potrebbe arrivare Criscito come terzino sinistro nell'Inter, e dico potrebbe, adesso non si sa. Criscito ha comunque disputato un'ottima stagione quest'anno con lo Zenit e quindi io gli ho aumentato il rating di 2 perché ci sta e anche di molto le statistiche perché secondo me se lo merita, perché quest'anno Criscito, ripeto, ha fatto una buona stagione. Centrocampo, Felipe Melo è uno degli acquisti che l'Inter potrebbe portare a termine, in realtà la trattativa in questo momento è abbastanza ferma, però Felipe Melo potrebbe essere per quanto riguarda la sua fisicità in mezzo al campo, potrebbe essere un buon acquisto per l'Inter, anche lui lo downgradato di 1 mi sembra perché non ha fatto una stagione eccezionale, ha comunque ricevuto una versione IF se non sbaglio, ma niente di che, comunque dalle statistiche resta comunque un ottimo centrocampista per la Serie A. Come del resto potrebbe essere un buon centrocampista con Dogbia che ho voluto aumentare se non sbaglio di più 3 di overall, però l'ho reso non raro anche se magari con una statistica come il fisico 85 potrebbe renderlo un giocatore raro, adesso questo non lo so, però ho aumentato qualche statistica perché aumentando di più 3 di overall devi aumentare per forza qualche statistica, ha fatto un'ottima stagione con il Monaco, ha fatto anche un gol in Champions League, quello che abbiamo visto 1200 volte quest'anno sulle varie reti di Sky e Mediaset, e comunque potrebbe essere una buona carta, certo non è un giocatore velocissimo e non ha neanche un ottimo passaggio e nemmeno un grande dribbling, però difensivamente gli ho aumentato appunto a difese fisico che ci sta. Poi Kovacic, ecco Kovacic non sapevo se aumentare o diminuire, alla fine ho deciso di aumentare di 1 e comunque farlo diventare un giocatore oro raro perché ha fatto diversi gol quest'anno, tipo 8 gol se non sbaglio, e quindi secondo me ci poteva stare un upgrade a questo giocatore anche se non ha sempre giocato benissimo a dir la verità, in ogni caso sarebbe una carta davvero davvero interessante per via della sua velocità, del suo dribbling, del suo discreto tiro, a quanto si vede e l'ottimo passaggio, quindi potrebbe essere una carta davvero interessante per la Serie A l'anno prossimo. Poi andiamo con l'attacco, troviamo Kovacic che dovrebbe fare diciamo la seconda punta, che gioca a destra e rientra sul sinistro o qualcosa del genere, non mi riesco a capacitare del fatto che questo giocatore a gennaio abbia ricevuto un upgrade, che penso sia totalmente immeritato anche perché non ha giocato tanto, anzi ha giocato relativamente poco nel Manchester City, quindi ne deriva questo downgrade di uno rispetto alla sua versione upgrade di quest'anno, però comunque le statistiche più o meno sono rimaste invariate, e comunque sia è una carta discreta, ovviamente con lo spostamento dalla destra farà un po' più di fatica, visto che non è super veloce questo giocatore. Poi abbiamo Icardi che è l'upgrade più grande dell'Inter di quest'anno, perché ha disputato una stagione meravigliosa con 27 gol all'attivo, se non sbaglio, in stagione, quindi si merita un più 5 tra l'altro, mi sembra di overall e statistiche di molto aumentate, soprattutto il tiro, anch'esso più 5 se non erro, e un po' il resto delle statistiche. Ha fatto anche diversi assist quest'anno, ne deriva appunto il più, forse 4 nel passaggio, 3 non mi ricordo. Comunque Icardi ha fatto un'ottima stagione quest'anno e deve ripetersi l'anno prossimo, quindi questa sarebbe una carta davvero interessante, mi ricorda un po' diciamo un 20k della BPL con meno fisico, ovviamente, però la carta un po' ci assomiglia. E per completare abbiamo Perisic, che è il giocatore che praticamente da quando è su Ultimate Team, o quasi, è sempre stata una carta non rara, e quindi penso che anche l'anno prossimo lo sarà, se arriverà all'Inter, anche se la trattativa pare molto complicata, ma ne abbiamo parlato, se non sbaglio, nello scorso Potential Transfer, un po' di Perisic. Comunque statistiche che più o meno alcune diminuite, perché non è stata la sua migliore stagione, quella al Vosburg quest'anno, rispetto a quelle precedenti, forse anche perché ha giocato molto meno rispetto alle stagioni precedenti, vista la concorrenza in attacco del Vosburg. E in realtà a lui non serve proprio un'ala di sinistra, bensì un esterno che può fare anche il trequartista, quindi bisognerà vedere poi come lo impiegherà Mancini. Comunque raga, questa è la mia squadra, cioè la mia squadra, la squadra che ho ipotizzato. A centrocampo ho messo Kovacic perché non c'era Brozovic, ma potrebbe giocare anche lui o anche Hernanes, non lo so, a dire la verità ci sarebbe anche Medel da mettere davanti alla difesa, però penso che se arriverà Felipe Melo giocherà lui. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate, quali sarebbero i vostri cambiamenti, sia di modulo, che di giocatori, che di statistiche. Vi invito a lasciare un bel like se questo video vi sia piaciuto, vi è piaciuto, 300 o 400 mi piace, ci stanno di brutto per questo episodio. Come sempre fatemi sapere nei commenti quali squadre volete in futuro e iscrittevi al canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link come sempre li trovate in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, bella raga!